Enzo Gnatari, stiamo conoscendo gli assessori, partendo un po' da quello che è il curriculum ampio, perché ti conosciamo, abbiamo visto insomma quello che hai fatto negli anni, adesso un ruolo nuovo, quello di assessore al Comune di Canicati, con quale spirito ti appresti un po' a prestare questo servizio alla città di Canicati? Beh, mi appresto a svolgere questo servizio come servizio, cioè mettendomi a servizio di questa città, di una città che ha tanto bisogno, di una rinascita oltre che economica, anzitutto una rinascita culturale, di una rinascita morale, di una rinascita spirituale, cioè di una città che possa avere il grande ideale. Se questa città riprenda ad avere grandi ideali, allora questa città riuscirà a volare. Noi nel corso del Novecento abbiamo avuto momenti di grande difficoltà, come dimenticare a tal proposito il dopoguerra, quando Canicati era tutta bombardata, ma in quel periodo Canicati ebbe grandi uomini, ad esempio l'arciprete restivo, tante figure che si diedero con grandi ideali a ricostruire questa città. Noi ereditiamo, in utero dire, una situazione certamente drammatica, non vogliamo dire proprio devastante, ma molto critica. Non vogliamo ovviamente creare allarmismi tra la popolazione. La situazione è questa, ma proprio perché la situazione è questa desideriamo creare dei punti di forza, dei punti che possono dare una scossa, una sveglia a queste città in modo che possa così ritornare ad essere quella che era stata negli anni passati. Diverse volte noi abbiamo detto, il Corriere della Sera dedicò un articolo a questa città, definendola la Wall Street del Sud, per dire come il commercio, il commercio dell'Uva Italia, l'agricoltura, era fiorente e noi desideriamo appunto che questa città possa rinascere. Qual è il primo atto da assessore? Il primo atto da assessore è questo, canicattia invasa da cani. Sembra un gioco di parole, canicattia invasa da cani. C'è troppo randaggismo e noi stiamo valutando attentamente con il signor Sindaco, una figura eccellente, come far fronte a questo problema perché non guardiamo soltanto il cane che va in giro così solitario. Qui ci sono tanti cani che formano un branco e quando i cani formano un branco, sto parlando del mio assessorato, allora diventa il branco pericoloso. Ovviamente io oltre alla sanità ho la delega per la pubblica istruzione, per la formazione, e qui a presto metteremo in cantiere delle iniziative in modo che la scuola possa essere sempre quella che è stata, ma possa anche avere degli incentivi considerato che lavora la scuola per la formazione del cittadino del domani.